Salve a tutti e oggi inizierò un nuovo walkthrough Il gioco è The Walking Dead Un gioco che è uscito per Xbox, Playstation 3, Mac, PC Tra poco uscirà anche per iPad, iPhone e tutti gli altri dispositivi Va bene, comunque lo potete trovare al prezzo di ogni singolo episodio che costa 5€ 4,99, ti fregono sempre con quel centesimino E invece potete comprare il pacchetto per tutti quanti gli 5 episodi che usciranno mese per mese al costo di 20€ Va bene, ma 19,99, no 20, vabbè Comunque iniziamo questo nuovo walkthrough Refreshing episode status Comunque in inglese non me la cavo molto bene Perciò va bene così Perciò sono una schiappa Play che significa? Ah ok, no faccio standard La vedo tosta Un nuovo episodio Ah ecco gli tutti gli episodi che ci saranno Sembra interessante Vabbè iniziamo con il primo Loading, loading Infatti sceglierò Puoi scegliere Le varie cose da fare Comunque vabbè Il gioco penso che si basa anche un po' sulla storia del telefirma Non so se voi l'avete visto Io sì ma Mi ha fatto cacare il telefirma Però Il fumetto non so se Non l'ho letto Perciò non so se è fichissimo Però infatti è fatto un po' cartone Anche perché penso che È stato tratto dal fumetto Beh Ah Dove pare un po' triste Cazzo Non ho messo i sottotitoli Eh ma che ha detto Vabbè Gli dico Ma se è becione Aspetta no Ne la posso fare Opzioni Sottotitoli Subtitoli Settings Gameplay Subtitoli Yes Per forza Ne la posso fare Ok Torno indietro Resume Game E non mi ha messo i sottotitoli Sto zitto Sto zitto Anche perché non so l'inglese Porco d'inci Mo sbrocco Allora mettiamo i sottotitoli Sì Controlli Sono impazzito Sono impazzito Fermatemi Allora Gameplay Oh Sottotitoli Sì Salvataggio in corso Gli avrà messi i sottotitoli Oh l'ha messi Perché lì compare la freccia Che devo fare Che devo fare Non vedi Devo mirare Sì ok Lo stick Destra Per mirare Fico Fico Ok Rubagli il fucile a bomba Especchiettore del visore Que cosa pensi? È colano dei zumbi Ma anche ce che sta succedendo Non può essere già Non può essere Non può essere Il Il Lo Il Il D C'è 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 Tu Tu Mi C'è Il I C'è Tu C'è 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 Il Vuoi sapere come lo vedo? Hmm... Certo Oh, abbastanza incazzato Sfonda il vetro con la capuccia No Fuck you No, non gli hai detto, sei uno schiavo Helicotter, mancano che arrivano i cari armati Eh, perfetto I cari armati, la SWAT La... 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 ... Questa è un bambino Eh, sono concentrato a capire cosa mi inchi‍a dici Ah... Lo so io Potrebbe essere inocente. Non ho fatto tempo ad avvertirlo. Che chiocco. Quanti giri ha fatto sta macchina. Caricamento. Arrivano gli zombie. Capito? Non c'erano nessuno con mille zombie. Non c'è più posto in paradiso. Si è messa a dormire. Non c'erano nessuno. Non c'erano nessuno. Non c'erano nessuno. Ah, posso girare intorno. Ok. E rompere il vetro. O carciola. E tra... Così fa girare il vetro di una macchina da polizia. Va bene. A parte questo. Eh sì. Ja, fai. Ho capito. Ah, non vedi. Ok. Con le levette lo sposto in qua in avanti. Su, vai, vai. Esci, esci. E' morto. E' morto. E' morto. E' finito così il gioco. No, vabbè. Fatte male. Continua a massacrarti. Tanto non lo sentono l'otore del sangue, gli zombie. Ok, no, aspetta dai. Nel bagagliaio ci dovrebbe essere un pompa. Ah, eccolo lì il pompa. Ah, ok. Così mi muovo. Ok. Dai, prendi il pompa subito. Ti puoi abbassare? Ok. Ti pareva che era scarico? Ma che cavolo? C'hanno i fucili scarico. Beh, sicuro quello c'ha qualche munizione. Aspetta, però prima, prima la portiera, non si sa mai. Ah, no, una munizione. Ok, ok. Perfetto. Ricarica subito il pompa. No, non lo ricarica il pompa. Ah, sì, posso usare questo qua? No. Vediamo un po'. Che faccio in niente. Vabbè, andiamo a vedere cosa ha il cadavere del poliziotto. Sicuramente le chiamo. Officer, officer. Good damn. Perché parla così? Officer. Officer. Vabbè, basta. Ok. Allora. Look at shotgun. Ok, ma ce li prova. Dai, dai, che ce l'ha munizio. Eh, ma ce l'hai? Metticela. Basta, ce l'hai munizio, ma ne vado. No, e dai. Sette volte l'ho fatto. Lo so, lo so. Che dicevo, va a caricare sto pompa? No, non lo vuole caricare. Andiamo un po' da quest'altra parte, magari c'è qualcosa. No. Lui non corre. Andiamoci sopra, va. Ecco le chiavi. Prendite, prendite. Sbrigati, sbrigati. Porco d'inci. Mo' si diventa zombie sicuro. Vicino alla bocca. Eh, come... Ti pare vero? Ok. Questo uomo è muzzica. Tu mi sei... Uomo sicuro se... Mi vuole dare un bel morso. Sono un grande hamburger. Sono un grande hamburger. Per la miseria. Perché quando ho preso il... Rigo, 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 rigo. Prendi il pompa, prendi il pompa. No, eh. Prendi il pompa. Carica. Ma capito? Ma c'è mani di ricotta, porco dici. Non mi faccia fare questo! Te. Headshot. Non sta tanto bene. Il... L'officer. Vai, controlla arco. Taglia pure l'obiettivo sbloccato. Che the hell is this? Puzza, vai, di merda. Hey! No, sai com'è? È solo scoppiato il cervello. Vabbè, comunque... Procediamo ad andare avanti. Come faccio ad andare avanti? Tanto è morto. Mi giro? È morto, è morto. Sì? Ok, si è in parla del gioco. Bel bug di merda. Non mi fa fare nient'altro. Niente, sto diventando pazzo con il joystick, ma non fa nient'altro. Interessante. Maledetti bug, malefici... Oh, aspetta, no. Non è un bug. Era io che non trovavo la persona... Anzi, lo zombie. Già stavo a spingere 750 pulsanti. Stavo fino al secondo joystick per vedere se pure quelli funzionavano. Vabbè. Allora. Porti la tua macchina. Meglio che te, Arzzi. Sono un po' tanti. Vabbè, non sei tanto intelligente, porco bici. Se stiamo così. No, ma casca una volta, porco bici. La spiega da questa vacca la staccionata. Taglie, altri zombie ci sono all'altra parte, sicuro. Facciamo una festa in PC. Non è un po' tanti. Lui è lo zombie. Si potrebbe mimetizzare insieme ai zombie? Tipo Shaun of the Dead. Allora. Qua che c'è? No, vedi. Non sapevo te. Dai, c'è una bambina a questo. Sicuro solo a l'ardo. Sì, vabbè, la gamba che c'è, infatti. Non ti voglio, non ti arrampicare. Vabbè, parla, parla. E' un po'. E' un po' di syncopo. E' un po'. E' un po' di syncopo. E' un syncopo. Non ce ne vuole pensi. un po come posso aspetta dai devo entrare nella casa tubo dell'acqua posso servire a qualcosa sicuro è chiusa il mille per cento non c'è nessuno nessuno ti vuole come amico ah ma c'è la ok mica l'avevo visto era inutile che ci provavo ah invece strano ecco si morì ah sono veloci i caricamenti shit non ho zombie perchè lì c'è il sangue è una casa zombie vai vediamo un po' che c'è qua vabbè ne sa di che c'è la bambina si dovrò salvare una bambina capito sta sempre per terra però c'è incredibile ecco come diventi sempre più zombie guarda che te li ha dove sta allora controlliamo subito ma qual è le note? devi aprire il frigorifero e mangiarti tutto questo è un codice di area savannah ma questo è il tipo di note che ti lasci a un bambina 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 dai può essere utile ci può tornare utile un bambina un bambina un bambina un bambina c'è quello che c'era una p 것처럼 è invasciato un dentifricio che è di forca miseria prendi prendi tutto tenere tre nuove messaggi 3 messaggi vabbè dai andiamo a sentire questi messaggi e la segreteria 3 nuovi messaggi messaggio 1 left at 5.43 pm hey Sandra this is Diana we're still in Savannah Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel so we had to get him back to the ER and have it checked out anyway he's not feeling well enough to drive back tonight so we're staying an extra day thanks so much for looking after Clementine and I promise we'll be back in time before your spring break here's spring break left at 11.19 pm oh my god finally I don't know if you tried to reach us while all the calls are getting dropped they're not letting us leave and are telling us anything about Atlanta vabbè esente le metà just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta I've got to get back to the hospital please let me know what you're saying non te gusta message 3 left at 6.51 am Clementine baby if you can hear this call the police that's 911 one one we love you we love you ok we love you er la mamma non famo casini I'm not a monster I'm not a monster I'm not a monster he's almost what's your name I'm Clementine this is my house hi Clementine I'm Lee Bruce Lee where are your parents dos anni i parenti tutti morti if they took a trip and left me with Sandra they're in Savannah I think where the boats are ok dobbiamo trovare anche i parenti where are you dai this is my house I'm outside of my treehouse they can't get in that's smart see can you see me I can see you through the window porco dici scoppiala eh te pareva che si scipola porco dici una bottiglia imparate bello dai eeees drango te dai encarso encarso un altro encarso eeees prendi il martello prendi il martello prendilo piaccigolo braaa hai detto zombie fatality si si continua ma niente male bem 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 un pochino splatterino di lavoro fa il chirurgo plastico man hi there did you kill it eeees eeees eeees